Cos'è successo all'Aston Martin? Inizio stagione, sei podi in otto gare, Alonso unico pilota in grado di sfidare Verstappen, e poi... blackout. Solo un podio nelle otto gare che dalla Germania ci hanno portato in Giappone. Com'è possibile? Cos'è successo? Tentiamo di scoprirlo insieme. Non vi racconterò tutta la storia del team Aston Martin Formula 1, perché a parte una parentesi nel 1950, dovremmo raccontare tutta la lunga avventura di Eddie Jordan, la trasformazione in Force India, poi in Racing Point, infine in Aston Martin, però un piccolo ripassino ve lo devo fare, quindi vi riassumo questi ultimi due anni, quelli in particolare con il nuovo regolamento a effetto suolo, cioè 2022-2023. Aston Martin inizia il 2022 come una delle possibili sorprese. I soldi ci sono, e sono infiniti, perché garantisce Lorenz Stroll, e pensate, ci sono talmente tanti soldi che Aston Martin sta costruendo una nuova sede ultra high-tech con una nuova galleria del vento. Pensate un po', la fabbrica sarà pronta a metà 2023, quindi proprio in questi giorni, e farà in modo che tutti gli ingegneri possano lavorare insieme sotto lo stesso tetto. E se c'è la sede ultra figa, servono anche gli ingegneri ultra fighi. E Lorenz Stroll mette sotto contratto quanti più ingegneri possibile. Alcuni sono nomi pesantissimi, ad esempio il nuovo direttore tecnico Dan Fellows, un tizio che arriva giusto dalla Red Bull e che era giusto il numero due di un certo Adrian Newey. Insomma, Aston Martin ha tutto quello che serve per preparare il 2022 da paura. E vi dirò di più, c'è anche il pilota, un campionissimo che può farla andare forte, Sebastian Vettel. Quando la macchina viene presentata, tutti rimangono a bocca aperta. Ha delle pancie molto strane, quasi uniche, che creano una specie di doppio fondo. Ecco, quella vettura non funziona. Non va. Cioè, non è che soffre un po' di porpoising, soffre un botto di porpoising. Gli tocca quindi farla girare altissima, il che comporta che non ha carico aerodinamico e è lenta. Non va. Si capisce quindi che serve un piano B e il piano B arriva in Spagna, dove si presentano con una monoposto totalmente nuova che, guarda un po', assomiglia proprio alla Red Bull. Ma ci assomiglia così tanto che la chiamano la Red Bull verde. Polemiche a non finire, accuse di plagio, avete copiato. E beh, per forza Dan Fellows, essendo che era il Red Bull, avrà fatto la soffiata. Insomma, la FIA quindi apre un'indagine, ma niente. È tutto regolare. A quanto pare la Ston Martin aveva un piano B che era già pronto dall'autunno. E quindi non appena si è reso conto che la macchina non andava bene, bam, rivoluzione. La Ston Martin 2022 versione B, o Red Bull verde, chiamatela come volete, tutto sommato va bene. Non va benissimo, però comunque è una macchina da Q3, quindi è una macchina che può entrare in zona punti. Nel 2023 arriverà Fernando Alonso e quindi a questo punto si punterà in grande. Il 13 febbraio 2023 viene presentata la AMR 23. È una buono posto tutta nuova, con una serie di chicche, soprattutto nella zona centrale. E la più interessante è un lungo canale al centro delle pance, che praticamente forma una specie di scivolo lungo il quale scorre l'aria. Vabbè, se non vi interessa l'aerodinamica, questo vi interessa poco. Quello che ci interessa è che sembra un'auto curata veramente nei minimi dettagli. Però nessuno si aspetta che vada tanto forte. Cioè, si pensa che magari si giocherà al quarto posto, dietro Ferrari, Mercedes... E invece, nei test, vola! Va fortissima! Alonso è carico a molla e con un anno di ritardo, quindi, l'Aston Martin finalmente è diventata la squadra sorpresa della stagione. Bene, abbiamo capito quindi quale è stato il percorso che li ha fatti arrivare fino ad oggi. Ora, però, serve capire effettivamente com'è andata questa stagione, guardando un po' di numeri. Il primo dato è quello dei podi. Ve ne ho già parlato pochi minuti fa. E dico podi perché ormai lo sappiamo, se avete seguito la stagione, nel momento in cui c'è Verstappen sulla Red Bull, parlare di vittoria è impossibile. Cioè, l'unica cosa che si può puntare è un podio. Tranne Singapore, che li ha fatto casino, ma per il resto, podi o basta. Quindi, podi is the new victory. Quindi, in sedici gare, dal Bahrain al Giappone, l'Aston Martin ha conquistato sette podi. Che uno dice, beh, buono, ma non ci saranno mica problemi, no? E invece i problemi ci sono. Perché di questi sette podi, sei sono arrivati nelle prime otto gare. Mentre nelle restanti otto ne è arrivato solo uno a Zanford. Quindi, pensiamoci bene. Se nelle prime otto gare fai sei podi e nelle altre otto ne fai solo uno, qualcosa ha smesso di funzionare. E che cosa? Beh, ho preparato questa tabella che fa vedere il distacco in Q3 della Ston Martin rispetto alla pole position. Direi che è abbastanza chiara, non serve fare analisi matematiche. Si capisce che all'inizio i distacchi erano bassi e poi sono esplosi. Forse la Ston Martin magari non ha dei piloti da qualifica con Stroll, che tutti lo conosciamo, e Alonso, che in realtà è un animale da gara. Eppure fino a Monaco, se togliamo Baku, le qualifiche erano andate bene. Cioè, i distacchi erano comunque bassi. A Monaco avevamo fatto quasi la pole. E poi, da Barcellona, boh, distacchi esplosi. Aspetta, ma che cavolo stai dicendo? Cioè, non è vero? Guarda l'Austria, guarda l'Ungheria, i distacchi sono bassi. Ovvio, sono delle piste corte ad alto carico dove tutti i distacchi sono bassi. Quindi non fatevi ingannare. Se quelle piste fossero lunghe come Spa, i distacchi sarebbero il doppio. Per esempio, guardate Suzuka. Però, uno potrebbe dire, vabbè, ma chi se ne frega delle qualifiche? Cioè, i punti si fanno la domenica. Altrimenti, se si facessero in qualifica, la Ferrari si starebbe giocando al Mondiale o la Red Bull. Quindi, ho studiato anche il distacco accumulato dalla Ston Martin in gara rispetto al vincitore. Aspetta, Nasca, scusa, ma se entra una safety car si azzerano i distacchi. Che cavolo di calcolo è? L'abbiamo fatto in maniera intelligente questo calcolo. Cioè, se negli ultimi giri entrava una safety, ho preso il distacco prima che entrasse la safety. Beh, direi che anche questo grafico è estremamente eloquente. Si vede quanto l'Aston fosse forte all'inizio della stagione e quanto lo fosse soprattutto in gara. Cioè, mantenere un distacco dalla Red Bull tra i 20 e i 30 secondi non era banale. Allora, detto così fa ridere. Minchia, 30 secondi in gara. Ti sei preso una vita. Sì, ma oh, quest'anno la Red Bull va talmente forte che se stai sotto i 30 secondi sei fortissimo. Quindi è così. Però, dalla Spagna è cambiato tutto. Se togliamo Montreal dove l'Aston stranamente andava forte o Silverson dove la safety è entrata a metà gara, in tutte le altre piste i distacchi sono mostruosi. Sono raddoppiati. Si arriva a 40, 60, 80 secondi di distacco. Questo ci fa capire che l'Aston Martin non è peggiorata solo in qualifica, è peggiorata anche in gara con tanta benzina a bordo. Quindi, non solo è peggiorato il confronto rispetto alla Red Bull ma è peggiorato il confronto anche rispetto agli altri. Perché se l'Aston non ha fatto più podi è perché anche gli altri sono migliorati. Tipo Eclaren? Ok, a questo punto cerchiamo di rispondere alla domanda sul perché è accaduto tutto questo. Come molti dei video che faccio su argomenti attuali il vero perché non lo sa nessuno, lo sanno solo loro. L'unica cosa che noi possiamo fare è prendere tutti i dati, prendere le informazioni, analizzarle e tentare di capirlo. E i motivi che abbiamo identificato più plausibili dietro a questo declino sono quattro. Motivo numero uno trasloco. Detto così fa ridere. Però, dalla fine della primavera gli ingegneri Aston Martin hanno iniziato a trasferirsi nella nuova sede. Cioè, erano 30 anni che il team operava in un edificio molto più piccolo a cui avevano giunto qualche prefabbricato e ora hanno dovuto spostarsi in una nuova sede. Più grande, più bella, high tech. Sul lungo periodo starà meglio ma subito non è detto che si inizi immediatamente a lavorare bene. Bisogna adattarsi, bisogna ambientarsi. La struttura è diversa, le idee circolano in modo diverso. Serve un tempo per adattarsi. Qualunque azienda nel momento del trasloco lavora male. Ma questo in tutto. Ragazzi, i traslochi causano divorzi, botte, litigi, aziende che si sfasciano. Cioè sono una delle robe più brutte che si sta al mondo il trasloco. Ovviamente non è che lì si sono messi a prendere a pugni su chi faceva gli scataloni però magari gli sviluppi ne hanno risentito. Ma per farvi capire quanto il cambiare ambiente crei danni c'è una grossa azienda produttrice di gomme che da quando ha spostato la sede produttiva da una città a un'altra spostando proprio tutti i processi tutti i macchinari quelle gomme hanno iniziato a performare meno. E vedi ma perché? Già solo perché cambiano le condizioni climatiche in cui vengono prodotte. Cambiare sede cambiare luogo inevitabilmente ha un effetto. Secondo possibile motivo sviluppi sbagliati. Questa è l'ipotesi più concreta e più importante nel senso io il trasloco me lo immagino come un aggravante ecco. All'inizio dell'anno la Ston Martin andava fortissima in curva e piano nei rettilinei. Se vi ricordate Alonso quasi faceva la pole e in un certo senso mi ricordava un po' la Ferrari dell'anno scorso. Velocissima in curva ma troppo lenta sul dritto a causa del troppo drag che sarebbe la resistenza all'avanzamento. E se ci pensiamo che cos'altro hanno in comune la Ferrari del 2022 e la Ston Martin del 2023 sviluppi poco efficaci. Sì perché se parti da una macchina che ha tanto drag non è facile riuscire a renderla veloce sul dritto. E quindi che cosa può succedere? Può succedere che nel tentativo di svilupparla e migliorarla si sbaglia la strada e non la si riesce a migliorare tanto quanto si sperava. Anche perché ricordiamoci una cosa non è che stanno tutti fermi anche tutti gli altri migliorano. Quindi se si inizia che Aston Martin è qui e McLaren è qui e Aston Martin la migliorano di tanto così ma McLaren la migliorano di tanto così Aston Martin non è che ha peggiorato ma non ha migliorato tanto quanto gli altri. Quindi mi viene facile pensare che Aston Martin nel tentativo di sviluppare la macchina abbia scelto una strada sbagliata o magari non così tanto efficace come gli altri. Terzo possibile motivo programmazione. Banalmente magari Aston Martin non ha mai puntato tutto sul 2023. Certo sicuramente hanno puntato a migliorare però potrebbe anche darsi che una volta raggiunto l'obiettivo di fare bella figura e portare a casa dei podi le risorse di quest'anno le abbiano destinate al 2024. Chissà magari per arrivare a vincere il mondiale magari per fare un salto di qualità talmente grande da puntare a battere Red Bull anche perché quest'anno puoi sviluppare quanto vuoi ma Red Bull non la batti. Il quarto possibile motivo riguarda la flessibilità delle ali. Quest'estate nel paddock girava la voce che la FIA avesse chiesto ad Aston Martin di cambiare l'ala anteriore perché era troppo flessibile. Tutto questo prima della direttiva tecnica 018 che vieta proprio esplicitamente tutti quei meccanismi di fissaggio che fanno flettere le ali. Su questo argomento su questa voce che girava nel paddock ci sono mille articoli a riguardo potete cercarli e i giornalisti più volte hanno chiesto agli ingegneri Aston Martin ehi ma è vero questa cosa che si dice? E ovviamente gli ingegneri non hanno mai ammesso nulla ovvio perché sarebbe una missione di colpa ma chi cazzo l'ammette? Però se questa voce è vera e quel trucchetto fosse realmente esistito beh come tutti i trucchetti ti aiuta ti aiuta ti aiuta finché non ti beccano e lì poi non ti aiuta più. Quindi può anche darsi che quel trucchetto contribuisse a far andare forte Aston Martin. Bene abbiamo buttato giù un po' di ipotesi volete sapere la mia? Io credo che l'ipotesi più verosimile sia che semplicemente Aston Martin abbia sbagliato lo sviluppo o meglio magari tentando di correggere qualche difetto abbia perso e in tutto questo io mi sento di dire che il trasloco bene non ha fatto a quel punto quindi magari nel momento in cui ho capito che le cose non andavano bene possono aver pensato di dedicare le risorse al 2024 ovviamente queste sono ipotesi sarà così? Non sarà così? Beh dalle prossime gare qualche aggiornamento arriverà e sono davvero curioso di vedere che cosa succederà nel weekend di gara del Qatar